Non si deve più scegliere tra lavoro e salute, eppure sono ancora tante le declinazioni in negativo di questo binomio che ad Avellino porta il nome di isochimica, l'ex fabbrica di amianto di Piano Dardine dove per decenni sono state scoibentate le carrozze dei treni, 30 gli operai che hanno perso la vita fino ad oggi per malattie asbesto correlate e molti che ancora lottano per la loro salute. Ed è a loro che l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris nella sua tappa elettorale ad Avellino ha voluto rivolgere il suo messaggio. Noi abbiamo ancora troppi esempi, qua è uno, l'isochimica d'Avellino, ma potremmo dire le fonderie Pisano a Salerno, l'Ilva di Taranto, altri esempi nel nostro paese in cui le persone pur di lavorare accettano il rischio concreto, non presunto, di morire. E questo si ha anche perché i diritti sono stati smantellati come l'articolo 18, come i controlli nelle fabbriche se si smantellano gli ispettorati sul lavoro. Il leader di Unione Popolare spiega l'obiettivo del suo progetto politico che guarda l'Unione della Sinistra anche dopo le elezioni del 25 settembre. L'Unione Popolare nasce per unire, per unire un mondo che non è rappresentato, un mondo di sinistra, pacifista, ambientalista, di movimenti, di associazioni, di amministratori locali. Quindi sicuramente il 25 è una tappa importante perché entrare in Parlamento dopo due mesi che siamo nati significa avere quella propulsione, quella benzina pulita, quella forza che ci serve ma il progetto continua, continua come sempre tra la gente per dare voce a chi non ha voce.